Segnatevi in agenda domenica 22 settembre qui al centro pavese di milano torna il workshop per allenatori alle 14 massimo barbolini ci parlerà del contrattacco dopo la difesa barbolini è reduce dalla splendida medaglia d'oro conquistata l'olimpiade di parigi con la nazionale femminile come vice di giulio velasco e tra pochi giorni partirà per gli stati uniti dove sarà uno dei tecnici della neonata lega professionistica stelle e strisce e poi alle 16 invece toccherà a Rado Stoicev l'allenatore della Rana Verona invece interverrà sulla distribuzione del palleggiatore insomma uno dei segreti per giocare e possibilmente per vincere a pallavolo insieme a barbolini e Stoicev ci saranno le rappresentative della selezione lombarda che sapete hanno ottenuto grandi risultati a livello giovanile durante l'estate ci vediamo qui domenica 22 settembre a partire dalle 14 insieme per una grande giornata all'insegna della pallavolo vi aspetto ciao 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 Grazie.